Bosch della Marchetta prima! Ciao a tutti, stiamo qua al VDV che sarebbe dove che tutti i ducatisti si vedono una volta ogni due anni. Insieme ai ducatisti c'è sta pure Bosch, che voi credete che Bosch fa i lavatrici, i frullatori, tutti i settore maestri? In realtà Bosch fa pure un sacco di tecnologia per la moto. L'ABS, i traction control che ci piacciono tanto si fa per di, ma oggi Bosch ci presenta un'altra novità. Come vedete, Ride the Vai, che in inglese poi si dice Ride the Doorway o una cosa simile, che in pratica è una nuova app e questa app serve per fare il turismo, che te infatti la carichi sul telefono e ci stanno una serie, caruccia già come si presenta graficamente, ci stanno una serie dei percorsi preimpostati, uno può scegliere, che ne so, io sto da queste parti qua e mi voglio andare a fare un giro, ecco per esempio qua, e quindi una volta che te te lo scegli, puoi scegliere ad andare a montagna e questo ti fa tutto il percorso, ti dice già ando, devi girando, devi andare, ti segnala tutto. La cosa molto figa è che se siete un po' decente, un bel gruppetto, te sincroniziate tutti e ve vedete, indostate, se uno è rimasto dietro potete fare pure delle carette, pure se quelli da Bosch e Dico non si può fare, ma in realtà potete fare le carette, e se uno poi si fa male, gli si ferma a moto, gli succede qualche cosa, può spingere, è il bottone di aiuto e l'altro si gli va, si gli sta simpatico, se lo vanno a raccattare, se invece gli sta sulle palle, lo lasciano là, fanno finta di niente, spengono l'app e continuano a farci il giro di rifatti loro. E quindi che vi posso dire? Scaricatevi l'app, andate sull'app Store, sia che avete dei smartphone della Samsung o dell'Apple o quello che è, c'è sta l'app della Bosch, vanno scaricate, è gratuita e vi andate in giro, divertendo, 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 in sicurezza, bella per tutti. È bella, non è male, è caruccia, è una patata, tutta colorata, un sacco delle visioni, c'ho da più un sacco.